Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia, più 2,98%. Le peggiori performance si registrano su Amplifon, che ottiene meno 2,92% Tra le principali materie prime, sessione debole per l'oro, che scambia con un calodello 0,35% Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Unione Europea, annunciate le vendite al dettaglio, pari a 0,3%. È previsto mercoledì dalla Germania l'annuncio sia della produzione industriale, che delle vendite al dettaglio. Sempre mercoledì è in programma il dato sul PIL dell'Unione Europea Grazie a tutti.